Benvenuti in questo nuovo video, quest'oggi parliamo dei vantaggi e degli svantaggi del business degli affitti brevi perché non nascondiamolo, ovviamente ci sono tantissimi vantaggi io ne sono la prova, mi ha cambiato la vita, ha cambiato la vita mia madre, ha cambiato la vita tantissimi studenti B&B Academy che hanno rilasciato testimonianze qui sul nostro canale YouTube ma chiaramente questo business ha anche degli svantaggi non starò qui a dilungarmi in maniera infinita perché poi ci sono tantissimi contenuti qui sul canale però voglio in maniera molto schematica andare a elencare vantaggi e svantaggi innanzitutto partiamo dagli svantaggi, oggi facciamo il processo inverso di norma si parla prima dei vantaggi, oggi si parla prima degli svantaggi mi sono segnato qui dopo un brainstorming con il mio team chiedendo proprio a loro quali sono secondo voi gli svantaggi perché io sicuramente posso elencarne alcuni in qualità ormai di manager cioè non property manager, ma proprio di manager ormai non mi sporco più le mani, passatemi il termine nell'andare a magari fare il check-in di persona laddove viene richiesto piuttosto che ormai non parlo quasi neanche più con le imprese di pulizia quindi ci sta che magari possa dimenticarmi di qualche aspetto negativo ecco perché ho chiesto direttamente alle persone che lavorano quotidianamente come nella gestione degli immobili primo svantaggio dunque che abbiamo individuato è letteralmente l'avere a che fare con le persone cioè in qualsiasi business che tu abbia una pizzeria che tu abbia un e-commerce che tu abbia forse solo nel trading non hai a che fare con persone perché hai a che fare solo ed esclusivamente con un computer ma per il resto è uno svantaggio comune a qualsiasi altro business del mondo in che senso avrà a che fare con le persone? beh devi avere a che fare con gli ospiti c'è la volta che ti capita l'ospite più simpatico c'è la volta che ti capita l'ospite più esigente e quindi lo svantaggio è che ti può capitare quello rompiscatole che trova il pelo nell'uovo e trova quella cosa che non va è uno svantaggio? sì, ma anche no nel senso che se lo confrontiamo ad altri lavori comunque va benissimo così calcoliamo poi che un ospite col quale abbiamo a che fare principalmente da remoto nel senso che da remoto attraverso un'applicazione di messaggistica mi può far notare un qualcosa e io mi rendo conto che questa persona può essere pesante tramite chat ma si può sorvolare nel senso forse sono anche un po' forzati questi svantaggi però insomma questo è possiamo anche dire che nella sfera dell'ospite magari maleducato nell'ospite poco simpatico c'è anche l'ospite che magari può arrecarti qualche piccolo danno ospite che ovviamente risponde del suo danno come sfruttando le assicurazioni presenti in piattaforma come ad esempio Aircover nel caso di Airbnb o tramite booking attraverso la riscossione di un'eventuale caparra che è stata data caparra che si imposta direttamente su booking ovviamente lo spieghiamo per filo e per segno all'interno di Airbnb Academy però sappiate che su booking può essere impostata una caparra e quindi se l'ospite fa effettivamente un qualcosa un danno o che noi possiamo andare a riscuotere quella caparra e andare a compensare effettivamente il danno che è stato fatto dall'ospite un altro svantaggio è quello della stagionalità ma anche lì lo sanno tutti che in Sardegna o in Sicilia o in determinate parti della Toscana si lavora molto di più a partire da maggio sino ad ottobre rispetto a gennaio ad aprile è ovvio non sto raccontando nulla di nuovo è uno svantaggio? in realtà anche no perché negli anni abbiamo visto testimonianze di studenti Airbnb Academy che magari dicevano letteralmente io lavoro sei mesi l'anno gli altri sei mesi all'anno c'è chi va in vacanza c'è chi fa questo business in un'altra città c'è chi si gratta c'è chi continua ad affittare perché poi in realtà anche in zone fortemente estive si riesce ad affittare anche d'inverno talvolta quindi è uno svantaggio ma neanche così diciamo pessimo se possiamo chiamarli svantaggi pessimi perché dico che non è poi un vero e proprio svantaggio perché comunque si lavori solo d'estate ma guadagni molto di più cioè località estive fatturano talmente tanto in quei mesi lì che ti bastano i soldi non solo per tutta la stagione estiva ma per anche quella invernale e se sei bravo ti avanzano pure quindi è uno svantaggio da certi punti di vista ma è fisiologico non riguarda il business degli affetti brevi riguarda qualsiasi tipo di business legato a determinate zone stagionali e turistiche quindi riguarda anche gli hotel riguarda anche le lavanderie riguarda anche i ristoranti riguarda anche i bar le discoteche qualsiasi cosa insomma se sei in un luogo stagionale ne risenti chiaramente d'inverno ma ripeto lavorando bene con un giusto metodo si fanno dei guadagni talmente importanti che non ti preoccupi neanche d'inverno e poi nulla ti vieta ad esempio in Toscana è ovvio che a Marina di Cecilia lavori d'estate nulla ti vieta poi d'inverno di puntare a città come possono essere Pisa o Lucca o Firenze dove si lavora bene anche nei mesi invernali e lo stesso vale per qualsiasi regione perché ragazzi anche in Sicilia a Palermo lavori bene anche ad esempio d'inverno perché? perché è una grande città e ovviamente c'è gente che va a Palermo anche d'inverno per i motivi più disparati svantaggio numero 3 i regolamenti regionali ci sono regolamenti che variano al variare della regione quindi regolamenti che ci sono nella regione Lazio sono diversi da regolamenti che ci sono nella regione Lombardia è un gran bel mal di testa se non si ha tutto ben organizzato ben strutturato e magari un qualcuno che ti spiega anche quali sono le differenze ad esempio tra foresteria e affittacamere però diciamo che se fai parte di una community corretta o hai un corso di formazione non è un problema perché comunque hai tante persone che prima di te sono passate da questo step qui e di conseguenza ti sapranno spiegare tutto per filo e per segno oppure se sei appunto dentro il giusto corso di formazione hai un corso che ti spiega tutto quanto per filo e per segno a tal proposito si vocifera comunque che nel corso del 2024 verranno fatte delle regole omogenee a livello nazionale e tecnicamente quello che vale al nord a quel punto varrà anche al sud al centro in qualsiasi regione d'Italia tornando un po' al punto 1 poi un ulteriore svantaggio è quello di avere a che fare con esseri umani tra virgolette che hanno le sfaccettature più disparate ma versione proprietario cioè hai a che fare non solo con gli esseri umani ospiti del tuo b&b che vengono e possono lasciarti la casa sporca possono chiederti l'asciugamano extra eccetera 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 e ricordatevi che noi stiamo comunque facendo ospitalità significa essere ospitali e andare incontro a quelle che sono le esigenze le richieste dei clienti qualora siano sensate non esagerate bene abbiamo anche a che fare non dimentichiamocelo con i proprietari di casa nel caso della sublocazione ovviamente questo averci a che fare è molto più ristretto quindi proprietario di casa in sublocazione lo senti probabilmente una volta ogni 4 anni quando devi rinnovare il contratto mentre un proprietario in property management lo senti più frequentemente perché magari gli devi anche mandare la fattura a fine mese piuttosto che se fai sostituto d'imposta devi mandargli tu il resoconto delle prenotazioni quindi lo senti in generale per avvisarlo di come sta andando il business può capitare che se hai un proprietario un po' più esigente magari non una volta al mese ma a metà mese ti chiede come mai questa data è vuota come mai abbiamo affittato a 149 al posto di 199 e lì devi stare a spiegarle ho affittato a questa cifra perché un software mi ha consigliato di fare questo prezzo ho affittato a questa cifra perché altrimenti l'immobile sarebbe rimasto vuoto e quindi anche se magari tu stai lavorando benissimo con un tasso di occupazione incredibile e hai dovuto abbassare il prezzo per solo le due notti comunque magari quel proprietario puntiglioso ti verrà a chiedere gli rispondi gli dà la tua spiegazione e via quindi questo lo reputo uno svantaggio perché comunque devi rendere conto a queste persone però ripeto paragonato a tanti altri lavori che ho fatto o ho visto fare ad esempio a mia madre nel mondo della ristorazione siamo molto fortunati nel mondo dell'affitto breve e dell'ospitalità ve lo posso assicurare siamo molto fortunati perché nella ristorazione devi avere a che fare con ogni lo vedevo mia madre aveva un ristorante a 70 coperti 70 pranzo 70 cena ogni giorno doveva avere a che fare diciamo che non era sempre piena con un centinaio di persone però devi avere a che fare con una persona che magari ti genera un fatturato di 8 euro perché uno che si prende una pizza una coca cola ha speso 10 euro a esagerare e lì devi rendere conto ad un qualcuno magari di esigente per 10 euro fortunatamente nell'affitto breve lato clienti comunque si parla sempre di 100 200 300 euro a salire a notte lato proprietario comunque un proprietario sai che in media in property management ti genera quegli 800 1000 euro quindi un conto avrà a che fare con uno per una pizza da 10 euro e un conto avrà a che fare con uno per un immobile che sai che ti genera a fine mese quel singolo immobile magari 1000 euro per non parlare di quelle casistiche dove poi il singolo proprietario possiede più immobili io ho singoli proprietari che magari mi hanno dato in gestione poi 5, 6, 7 case abbiamo degli studenti B&B Academy che da un unico proprietario hanno tirato su 10 case a quel punto diventa un rapporto dove tu sai che parli con una persona ma quella persona ti fa letteralmente guadagnare migliaia e migliaia di euro al mese come property manager e ultimo svantaggio ma anche qui è uno svantaggio che accomuna tutti quanti business è quello della tassazione che anche qui è uno svantaggio barra vantaggio perché se calcoliamo che in molte ipotesi noi possiamo pagare solo la cedolare secca del 21% beh ragazzi è tanta roba perché è un business dove in maniera 100% legale abbiamo delle forti agevolazioni fiscali noi i proprietari noi se facciamo subloccazione come persona fisica eccetera 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 è anche un business dove si può applicare il regime forfettario quindi anche a livello di partita IVA abbiamo delle forti agevolazioni e la cosa bella è che riusciamo anche con un forfettario a metterci in tasca delle cifre nette importanti con poco sforzo e senza dover creare degli imperi se io penso a dieci anni fa uno per mettersi in tasca 5.000 euro netti al mese probabilmente doveva avere un'azienda di medie dimensioni tanti dipendenti tante responsabilità e anche tanti investimenti da fare up front con questo business invece in property management puoi raggiungere questa cifra ad investimento zero senza possedere case e con una partita IVA forfettaria quindi per quanto la tassazione sia uno svantaggio sicuramente dall'altra parte è anche però un vantaggio non si sfugge se operate in Italia con immobili in Italia chiaramente le tasse le dovete pagare chiaro che se andate a Dubai ad esempio allora lì è un discorso diverso la cosa bella di questo business quindi dagli svantaggi iniziamo a passare magari ai vantaggi è che è un business che una volta che tu lo impari lo puoi fare ovunque come se fai il ciclista cioè se stai a fare il ciclista in Italia guadagni di ciclismo in Italia guadagni di ciclismo in qualsiasi parte del mondo se sei fare il personal trainer sei personal trainer in qualsiasi parte del mondo non è che il personal trainer in Francia insegna cose diverse rispetto a un personal trainer in Italia quindi laddove può essere uno svantaggio la tassazione tipo l'Italia in altri luoghi del mondo invece questo è un business detassato una volta che lo imparate comunque potete praticamente esportarlo ovunque passiamo adesso ai vantaggi quindi abbiamo visto le cose brutte adesso riaddolciamoci con alcuni dei vantaggi che secondo me sono veramente tantissimi ripeto poi nei nostri webinar e quant'altro ne parliamo da cima a fondo e a tal proposito essendo all'incirca metà video ricordatevi di iscrivervi al canale e che al termine del video trovate in descrizione una serie di contenuti gratuiti e bonus che vi aiutano ad entrare ancora di più nel mondo dell'affitto breve come un ebook che abbiamo realizzato in maniera completamente gratuita con ulteriori informazioni validissime e la possibilità di fare una consulenza gratuita con il nostro team per capire la vostra situazione se fa il caso vostro questo business e come eventualmente potrete entrare in accademia tutto qua in descrizione partiamo con i vantaggi quindi beh sicuramente il reddito che tu puoi generare cioè puoi guadagnare detta proprio la francese un sacco di soldi con questo business c'è chi ci mette sette mesi c'è chi ci mette un anno c'è chi ce ne mette tre raggiungere il proprio obiettivo monetario a meno che non sia voglio diventare nuovo Bill Gates beh con questo business è assolutamente possibile abbiamo veramente intervistato centinaia di casi studio in base all'obiettivo che ti sei prefissato ripeto ci può volere un po' di più un po' di meno ma questo è uno dei pochissimi business al mondo che ti può permettere di raggiungere questi obiettivi economici in maniera scalabile perché è appurato che da un immobile di un certo tipo puoi tirare fuori in property management senza investimento in media dagli 800 ai 1000 euro al mese perché per grazia di dio viviamo in un luogo dove il turismo è la fada padrone è il business principale quindi si può affermare con quasi assoluta certezza che in una qualsiasi città italiana con un immobile in property management è possibile generare determinate cifre grazie a queste cifre poi quindi si può raggiungere l'obiettivo che ci si è prefissati in maniera molto scalabile quindi abbiamo basicamente Mario il cui obiettivo è guadagnare 5000 euro al mese Mario sa che in media dalle 5 alle 7 case gli permetteranno di guadagnare 5000 euro al mese se il tuo obiettivo è 3000 euro al mese sai che dovrai prendere dalle 3 alle 5 case e così andando non posso fare lo stesso discorso a mio parere con l'e-commerce ad esempio perché io che ho degli e-commerce in ambito affitto breve è veramente molto variabile e devi spendere soldi in pubblicità e giustamente ci sta che le persone abbiano bisogno di quel determinato bene una volta all'anno le lenzuola magari le compri una volta all'anno devi investire in shop fai tutta una serie di software per automatizzare e non è detto che tu rientri dell'investimento quindi non posso fare soldi a comando o stabilire in automatico quanto potrò guadagnare quanti e-commerce dovrò fare è sempre tutto un po' un'incognita cioè io questo mese non so perché ho triplicato i guadagni con i miei e-commerce ma non ho fatto nulla per triplicarli magari il prossimo mese diventeranno 5 volte di meno i guadagni quindi questo secondo me è uno dei pochissimi business togliendo i vari holly fans che secondo me sono delle robe assurde applicabili da pochissimi dove comunque ti rovini la vita da un certo punto di vista dove puoi generare reddito alto quasi a comando secondo grande vantaggio flessibilità ok perché letteralmente puoi fare questo business da qualsiasi parte del mondo chiaramente sai che se automatizzi talvolta ci possono essere dei piccoli intoppi sai che chiaramente quando arrivi a 15 case magari una risorsa deve iniziare a prenderla però se 15 case tecnicamente viaggiamo sui 10 12 13 mila euro al mese quindi assumere una persona non dovrebbe essere un problema e quindi è un business molto flessibile che ti dà molta flessibilità a partire dal primo immobile che puoi automatizzare a salire abbiamo nel nostro roster chiamiamolo così studenti con decine di case tutte automatizzate io stesso in un modo o nell'altro ho automatizzato tutto il mio portfoglio se parliamo di megaville incredibili dove chiaramente non puoi fare il self check in ho una risorsa di fiducia che va a fare il check in al posto mio se parliamo di immobili di fascia media appartamenti bei appartamenti anche appartamenti da un milione di euro assolutamente si può fare il self check in e quindi è un business che ti dà assoluta flessibilità e la cosa più bella è che anche gli ospiti vogliono questa flessibilità cioè nessun ospite vuole stare lì ad aspettare te alle 5 del mattino per fare il check out quando magari c'è il volo Ryanair che parte alle 8 del mattino o nessuno vuole doverti garantire un orario di arrivo ah si arrivo alle 16 e se poi mi voglio fermare a mangiare un panino non posso perché tu che mi stai aspettando no quindi la stessa flessibilità che ci permette tramite dei dispositivi smart di vivere serenamente è la stessa flessibilità che dall'altra parte vuole l'ospite quindi una situazione win-win dove guadagna l'ospite in flessibilità e ne guadagno io in tempo libero che poi posso investire con la mia famiglia con i miei cani per lo sport per viaggiare in altri business e quant'altro un altro vantaggio è il fatto di poter entrare in questo business ad investimento zero come dicevo prima quindi posso guadagnare da immobili che non posseggo non devo investire per gestire questi immobili se non magari nel percorso di formazione o in un determinato software per fare la ricerca di mercato ma in linea generale veramente questo è un business accessibile ad investimento zero se io prendo ad oggi il mio portfoglio composto da oltre 100 proprietà quelle per i quali ho dovuto sborsare denaro sono principalmente le sublocazioni che rappresentano comunque una percentuale più piccola del mio portfoglio e la maggior parte dei miei guadagni comunque arrivano da property management ad investimento zero quindi grandissimo vantaggio vado un po' più rapido sui vantaggi perché sono di più per grazia di Dio degli svantaggi quindi devo parlare un po' più velocemente è un business dove puoi iniziare senza competenze perché anche lì non puoi fare e-commerce se non sai fare facebook advertising se non sai un minimo di programmazione se non sai un po' secondo me di commerciale a che prezzo comprare a che prezzo rivendere quindi ad esempio nell'e-commerce devi sapere tantissime cose qui puoi iniziare veramente senza competenze perché è tutto molto step by step se hai una guida da seguire come può essere B&B Academy letteralmente si tratta di compilare campi seguendo ciò che noi ti diciamo e le variabili sono veramente molto poche e inutile dirvi che ovviamente spieghiamo all'interno del corso anche come sfruttare l'intelligenza artificiale per alleggerire il carico spieghiamo sia senza intelligenza artificiale perché quando abbiamo lanciato B&B Academy non esisteva sia con intelligenza artificiale quindi comunque è un business sia altamente automatizzabile ma dove anche la parte che non si può automatizzare la si può dare in passo all'intelligenza artificiale o anche se ci devi mettere del tuo è veramente molto 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 semplice cioè penso che la cosa più impegnativa che tu possa fare a livello di creatività è scrivere la descrizione di un immobile e anche gli diamo un sacco di linee guida cioè alla fine basta prendere la descrizione che ho fatto io per il mio immobile e su quei punti raccontare il tuo immobile e non il mio altro grande vantaggio è che non richiede appunto marketing non richiede pubblicità il marketing lo si fa all'interno della piattaforma stessa Airbnb o booking che sia e lo si fa semplicemente ancora una volta seguendo una guida che ti è stata data non devi pagare pubblicità o cose strane gli ospiti arrivano in maniera completamente automatica un altro vantaggio dipende dal tipo di persona che siete è quello di conoscere persone da tutto il mondo mi ricordo all'inizio facevo i check-in di persona effettivamente si venivano a creare delle connessioni interessanti conoscevi questa coppia arrivata dall'India i signori americani che venivano a visitare l'Italia il loro sogno nel cassetto chiaro che poi quando scali il tuo obiettivo magari guadagnare di più viene meno questa esigenza di dover conoscere le persone anzi diventa quasi un ostacolo perché è chiaro che se vai a fare il check-in per ogni singolo immobile che hai non è più il tempo di scalare il business diventi un portiere d'hotel però anche semplicemente via chat o quando ti lasciano la mancia quando ti lasciano il regalino quando ti scrivono nella recensione un sacco di ringraziamenti è molto piacevole fa bene anche all'anima non solo al portafogli ed è un'ottima esperienza di vita secondo me migliori anche un po' secondo me nella socialità nell'approccio e capisci che diverse culture hanno diverse sfaccettature quindi questo business sicuramente ti apre la testa per essere un po' cittadino del mondo e non semplicemente chiuso nella tua terra con la tua mentalità e capisci a volte mi meraviglio anche di come arrivino nei b&b più disparati infognati in dei luoghi incredibili persone dall'altra parte del mondo cioè che ti arrivi uno dal Connecticut in Molise tu dici ma come caspita ci è arrivato uno dal Connecticut nel Molise eppure succede quindi è sicuramente uno dei grandi vantaggi poi qua è un vantaggio fiscale non voglio essere ridondante parlando sempre solo di soldi ma ragazzi questo è l'unico business che voi potete fare in maniera 100% legale senza partita IVA cioè e-commerce di avere la partita IVA prima ancora di iniziare dropshipping stessa cosa Amazon FBA stessa cosa questo è l'unico business che potete fare in maniera 100% legale senza partita IVA l'abbiamo detto in un altro video andate a pescarvelo se non l'avete visto ne abbiamo parlato sul canale poi in realtà centinaia di volte questo è un business che si può fare pagando la cedola resecca di cui abbiamo parlato anche prima perché? perché si tratta poi di reddito d'allocazione chiaro che facendolo in determinati modi con tanti immobili eccetera 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 c'è bisogno di una partita IVA ma questo è l'unico business dove sino a 4 immobili in maniera appunto legale potete operare senza partita IVA come ovviamente lo spieghiamo all'interno di B&B Academy in ore e ore e ore di lezioni tenute tra l'altro anche dallo studio allievi studio di commercialisti numero uno in Italia per tutto quello che riguarda il digital business e quindi questo è un vantaggio non da poco infine decidi tu quanto guadagnare come dicevo prima se il tuo obiettivo è 5.000 euro al mese una volta che hai raggiunto quelle 6-7 case se necessario a fare 5.000 euro al mese ti fermi non hai capi non devi rendere conto di niente a nessuno ed infine proprio per questo motivo è super scalabile così come tu dici ho raggiunto i 5.000 voglio fermarmi qui ci sta che tu dici voglio raggiungere i 7.000 e allora sai che acquisisci altre 2-3 case e hai raggiunto il tuo obiettivo non dico che acquisisci con uno schiocco di dita magari per arrivare a quelle 7 case ci metti un anno però trovatemi un altro business dove da 0 a un anno voi riuscite a guadagnare 5-6-7.000 euro al mese cioè letteralmente nessuno a meno che non vendiate le foto dei piedi su Allifans o similari ok cioè come business legali dove non devi fare cose losche e dove la tua immagine rimane pulita questo è l'unico business letteralmente e ve lo dice uno che di business ne ha fatti e ne fa tanti bene questo video è durato più di quanto volessi che durasse quindi spero di non avervi annoiato questo è solo come dire una piccola parte secondo me dei grandi vantaggi che ha questo business mentre gli svantaggi penso di averli elencati letteralmente tutti le pulizie ovviamente le fa l'impresa di pulizia quindi non venitemi a dire ah lo svantaggio di quando ti lasciano la casa sporca ci pensa l'impresa di pulizie pulizie che tra l'altro vengono pagate dall'ospite quindi non sono neanche un vero e proprio costo per noi quindi non lo inserite negli svantaggi per questo motivo ancora una volta vi ricordo che potete iscrivervi al canale perché questo questa è una serie di video molto basilari molto grezzi molto rudimentali però se vi iscrivete al canale facciamo anche dei video molto più complessi molto più anche magari fruibili e soprattutto parliamo di tantissime cose che riguardano business in generale affitti brevi lifestyle quindi lo reputo un canale molto interessante e come vi dicevo trovate qua in descrizione un sacco di contenuti gratuiti quindi se vi è piaciuta questa sorta di lezione se vi è piaciuto questo video guardate gli altri video nel canale ma soprattutto usufruite dei contenuti gratuiti che trovate qua in descrizione ok ci vediamo domani con un altro video ciao ciao